Una cura da cavallo per azzerare in tre anni il buco da 30 milioni di euro lo prevede il piano strategico dell'Università di Bari in attesa dell'ok del Ministero. L'Ateneo metterà a stecchette il personale, 1500 docenti e altrettanti amministrativi, stop a stipendi, assunzioni, nuovi corsi di laurea, mutui e sprechi. Il risparmio stimato è di 10 milioni di euro ma il risanamento andrà più a fondo fino alla vendita dei gioielli di famiglia immobili per un valore non certificato di 43 milioni di euro. Nonostante i tagli c'è spazio per un programma di rilancio sulla formazione e l'innovazione. Sarà potenziata la vendita dei brevetti e lo sviluppo di competenze applicate alle richieste del mercato del lavoro. La capacità di progettare anche il futuro della ricerca del nostro territorio e si tratta poi anche di collocarsi all'interno degli scenari europei, penso soprattutto a Horizon 2020. E poi la terza missione, l'apertura al sistema produttivo, al sistema delle imprese, il trasferimento tecnologico, l'attenzione per i temi del sociale. Inoltre saranno rimodulate le tasse universitarie sui 53 mila iscritti. Gli studenti meno abbienti non subiranno aumenti, la scure si abbatterà sui superredditi oltre i 42 mila euro. Gradueremo la tassazione in modo più equo sulle fasce alte e soprattutto poi prevederemo un meccanismo di ritorno attraverso la formazione post laurea che va implementata anche per fare emergere le new skills, le nuove competenze di cui oggi il mercato del lavoro ha bisogno.